La mappa di comunità dell'ecomuseo di Valitrompia, la montagna e l'industria, è uno strumento finalizzato a far emergere il carattere di un territorio e serve per far emergere anche la specificità di alcuni luoghi e dei suoi abitanti, ma lo fa in una maniera partecipata, cioè coinvolgendo quelle che sono le persone che il territorio lo abitano e lo vivono. La mappa di comunità non è una semplice carta geografica o un portale web semplicemente atto a ricevere dei contenuti e a mantenere una memoria, in realtà è un qualcosa di attivo, un qualcosa di partecipato, che serve a tratteggiare una narrazione e a permettere che essa stessa diventi sempre più importante per quelli che sono gli abitanti del proprio territorio, una memoria viva che continua a rinnovarsi, nonché un bacino per nuove idee e nuovi progetti che il territorio stesso può sviluppare. Da oggi è possibile scaricare l'app dell'Ecomuseo realizzata da GECO Guides nell'ambito del progetto PIC Geometrie di Valle, con il contributo di Regione Lombardia. L'app permette di interrogare il territorio e scoprirne i suoi tesori e i singoli territori attraverso gli itinerari tematici o selezionando uno dei 18 più 1 comuni di Valle Trompia. I sette itinerari tematici sono costituiti dalle vie, percorsi monotematici relativi ai patrimoni culturali e ambientali presenti sul territorio, raggruppati secondo uno specifico ambito di interesse. Grazie alla realtà aumentata è possibile individuare i luoghi che ci circondano, musei, siti e sentieri ecomuseali. Scaricando l'app Ecomuseo di Valle Trompia è possibile rimanere aggiornati sugli eventi ecomuseali presenti all'interno del territorio. Grazie a tutti!